Stiamo scendendo dal Passo del Sempione con la Peugeot 508 RX-H per la prima volta un viaggio sulla neve e ho voluto metterla in modalità 4WD in cambio manuale per una maggiore sicurezza adesso sta nevicando molto ma la macchina si comporta molto bene sono soddisfatto perché ha una tenuta di strada eccezionale ed è molto performante